amici della community di tplanet 21 abbiamo finalmente ricevuto in test la nuova t bar hybrid k3 gomma molto chiacchierata sui forum stranieri si tratta di una gomma ibrida ovvero con top sheet appiccicoso leggermente e gomma piuma europea in questo caso di 53 gradi la gomma piuma dura si attiva quando si colpisce molto forte la pallina e si riescono a fare dei top spin molto potenti profondi con la parabola tesa mentre il top sheet griffoso appiccicoso aiuta nei colpi più passivi nei palleggi nelle risposte ai servizi nei top spin di apertura e si riesce a far girare la pallina moltissimo molto più di un'altra gomma che non ha il top sheet appiccicoso la definire una gomma di media difficoltà di utilizzo può andare bene sia per i giocatori che prediligono che hanno il colpo più forte il top spin di dritto o giocatori che hanno un ottimo controllo di rovescio gli piace andare sopra al tavolo può fare top spin di rovescio sia dalla vicina che media distanza abbiamo notato che è una gomma che ha un grandissimo controllo magari perde leggermente un pochettino di potenza dalla lunga distanza ma dalla media vicina distanza dal tavolo è una gomma veramente veramente di qualità notevole la palla gira tantissimo e rimane molto a contatto con la gomma quindi perdona anche facilmente i movimenti tecnici sbagliati che sia io che Giacomo facciamo sia con il dritto ma anche con il rovescio consigliata per chi? per i giocatori dalla quinta anche una seconda categoria perché non essendo così difficile e non concedendoti comunque ampi errori anche abbastanza tecnici con un buon allenamento anche di una o due volte settimane di un'ora e mezza o due ore vedrete che questa gomma vi soddisterà appieno nel controtop su apertura dell'avversario basta fare un movimento in avanti e la palla va praticamente sempre in con un complotto bravissimo nelle risposte ai servizi nel gioco corto non colpendo forte la pallina la gomma più madura viene attivata molto poco e quindi è molto facile tenere molto corte le risposte ciò viene ulteriormente aiutato dal top sheet appiccicoso che rallenta ancora di più la pallina perciò sul gioco corto si ha il controllo massimo questo nel gioco corto è un vantaggio enorme che hanno le bombe cinesi o ibride europee appiccicose infatti molti top players europei stanno cambiando il loro gomme si stanno adattando usando soprattutto gomme ibride come la dmx 09c che è molto simile a questa gomma però questa praticamente il doppio cos'era questa è certamente una gomma da dritto perché la pallina va sempre colpita forte per poter attivare la gomma più madura per chi ha trovato gomme cinesi sul rovescio e vi sono piaciute sicuramente gli piacerà anche questa gomma perché è sempre un piacere sentire il top sheet appiccicoso lavorare e fare girare tanto la pallina anche facendo il top sheet di rovescio il costo è di 50 euro diciamo che è a mercato visto che tutti i marchi di tennis tavolo hanno alzato i prezzi sicuramente anche dovuto a quest'epidemia covid che ci sono Grazie.